L'ultimo giorno ho fatto il 22, l'ultimo giorno della scuola. Ho fatto 20 di ragazzone F-Day, mamma mia! Questa è? No! Non è questa. Non è questa. E mi ha detto, mamma mia, faceva schifo. Ma che ne cantava? No, serio, era una canzone indiana. No, 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 no. No, no, schifo. E mi ha detto, ho fatto un po' di orecchie. Io ho 100 diari da orecchie. Quello del mio chiesco è il banco. Quello vicino, quello da fronte. Stai il lasso. Siamo a voi. Siamo a voi. Ciao amicetta delato! Sì, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Sì, dai! Ti sparo sull'orecchia E' un bambino questa cosa lo ti dici Qual è l'aglio questa cosa? Tu me ne hai giocato Pura la teca ti hai Ahaha Non è normale tutto Ma io non li serve Non puoi aver mangiato tutto Ma io ne ho mangiato Ehm? E' un bambino l'ucca Eppure a pgre! Ma vieni, prima assaggiatevi Già passiamo le minacce Oh, la sbombita alzata di cane Oh, la sbombita alzata di cane Guarda che non era facile Barbara, Barbara C'è stata ripresa, veniva mandato Ho detto mamma L'aria montato, c'era non tanta crema, panna, quella che non stava dentro Per cui è... Barbara Che sono? Mi basta Sto d'accordo Ma ora è l'eurofilo che ci vuole grand'acolo Guarda che... Il fallo è entrato Hai visto? Tu vuole, vuoi? Questa con il panno cioccolato? Io voglio questo! Guarda 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 il pandoro guardate la Giulia è un'attrice, sta in posa di una verità una donna che puzza Paolo allora, prima Paolo è male proprio ho fatto del male a qualcuno ho fatto del male a qualcuno sta riprendendo qui? allora, ditemelo che volete moro, non sapete poi la seconda fine allora, guardate, continuate a cuore di tutti è andrai a tutti non fai qua guardate, è andrai a tutti non c'è più zio, tu vuole un po' di tutti tre? in pratica mi ha messo tutto da tutto è chiaro grazie per avere un assaggio completo tu sei mi zio? ottimo papà di Lizzie non basta non basta non basta non ci dice mamma c'è stato un po' di gioco? c'è un po' di gioco c'è un po' di gioco vieni qua da papà vieni da papà lacrimotto vieni qua da papà vieni da papà non voglio non voglio non voglio l'olio è piatto ma che? e che è come? la prende a giro quando è così perché non può vieni qua sei un gelosone della Madonna è stato un po' di dolci proprio non c'è un po' di gioco tutti che parlavano con Paolo mi stavano di quello che portavano a bevare ma questo la panna è meglio ma questo l'ho detto a voi che vuole mamma mia tutte e due non vi fate respirare ma che sa la madre non sa niente che vuole la panna che ti ha detto? io mi ha detto cinque cose 5-6 cose le faranze piccole poi i dolci le caramelle di polino basta ma doveva spiegare un po' di metto un po' di ma non la trovo e te che te partiamo e poi? grazie grazie padrino eh che ti porta? un po' di questo di quello di un po' totte che ti porta il Befano? il Befano è un befano ma che ma che lo fai che lo mette? le mette a megnano 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 guarda che è buono il pandoro o la torta? che è buono il pandoro è assaggiato no, la torta è buono 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 l'udizio no, devo dire che è buono io faccio la moretta Antonio non dite che non l'avete mangiato perché c'ho le prove non ci può dire infatti è caldo ma che è questo bieto? quale? qui dove? quella torta lì questa è la moretta nutella e panna è una buca è dietetica è una goca hai finito di mangiare? no vuoi fotografare l'altro? no non ce la posso fare? io lo so allora fammi una capellata ma la cioccolata è fondente ma la cioccolata va mai non 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 non